però sono lo troppo forti per non andare troppo ecco va bene così mi freggiamo tutto per questo video voglio 10 likes e 200 visualizzazioni mi raccomando ok aspettiamo che qua fanno del danno ok si nel tuo attacco bello non ci credo ma che cosa ho fatto guardiamo i replay del nostro avversario ok io l'ho buttato il bambolo mi ha buttato il bambolo 100% ok se non sbaglio se vinco un'altra battaglia aspettate un'altra contro sebir aspettate ci sono delle difese aspettate dove sono aspettate no ecco qui il cannone ecco qua il cannone distrugge proprio tutto mi i barbari infuriati sono una potenza magari ne uscissero i clash la consideri come carta epica i barbari infuriati sono i cannelli del sonno guarda che potenza già adesso tutto lo è distrutta poi l'accampamento dove lo distrugge la miniera d'oro e abbiamo vinto la battaglia perfetto vediamo lui cosa ha fatto non ci credo ha vinto luna come ha fatto a vincere ok faccio un'altra paia di partite il 29% io ho 20% io ho 29% a noi quando ho fatto la vecchia si è attaccando tanto di me si è attaccando bello non ci credo 10.000 tempo addestramento ok dovrei portare la sala del costruttore a livello 2 poi c'è questa la macchina da guerra in ro macchina da guerra devi portare la sala del costruttore a livello 5 poi miniera di gemme devi portare la sala del costruttore a livello 3 che ora la devo poi torre dell'orologio devi portare la sala del costruttore a livello 4 bene ragazzi andiamo sul nostro Clash Royale voglio farvi vedere cosa ho vinto in battaglia voglio farvi vedere prima di salutarvi che sono arrivato in Arena 9 dai caricati si 81% ma dai 82% 83 si 84 85 85 100 guardate sono a Renate mio profilo ho vinto un poluzzo d'oro aspetta che dono la torre inferno capo che non ho la Robin Gang sarebbe stato bello questo è il mio deck bene ragazzi spero tanto che questo video vi sia piaciuto mettete un mi piace se vi è piaciuto il video mettete 200 visualizzazioni e 10 like per questo video buona visione buona visione ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.